Ciao da Autoriparazioni, NovaCat. Siamo l'unico centro guido simples per Novare Provincia. Trasformiamo le autovetture in modalità guida e trasporto per le persone diversamente abili. Oggi abbiamo trasformato questa vettura con un comando di guida centralina con pomello integrato guido simples 1096. Su questa nuova Toyota CHR, vettura ibrida. Ricordo che trasformiamo anche delle molte vetture elettriche e ibride di altri marchi. Abbiamo la nostra centralina di comando che ci aiuta anche alla svolta con la comoda impugnatura da pomello. Si sfila con l'attacco a baionetta. Questo è il nostro comando. Qui abbiamo la presa di ricarica. Agganciandola abbiamo possibilità di svolgere sia la svolta e di comandare tutti i comandi. Abbiamo anche un elettroilluminazione schiacciando i comandi. Abbiamo le attuazioni che chiaramente verranno comandate su due linee. Rimarrà la linea di serie più questa del nostro comando. Questo è il nostro cavo di alimentazione e questo è il nostro foglio che ci darà la possibilità al cliente di registrare la garanzia. Ricordo che Guido Simplex è la ditta leader in Italia di trasformazioni. E noi siamo concessionari per nuovare province. Qui abbiamo il nostro tasto per attivare e disattivare la nostra centralina alimentata con i suoi fusibili di sicurezza. E questo è il trasmettitore che riceve il segnale dal nostro pomello. Chiaramente modificare le auto, soprattutto gli ultimi modelli del giorno d'oggi, non è una cosa facile. Bisogna avere tipologie di centraline e tipologie di comandi che vanno ad adattarsi all'elettronica di serie. Che può anche essere su linea canvas, linea lean o anche centraline tele lean. Specifiche, con software scritti e integrati direttamente nella centralina. Per capire il preventivo e la fattibilità della tua auto puoi richiederlo tranquillamente passando dal nostro sito.